Alfa Pizza oggi vi presenta il forno Ciao, il più piccolo della gamma Forninox. Dopo averlo posizionato nel luogo ideale da voi scelto grazie alle comode ruote, accenderlo è semplice. Posizionata la legna, accendete e aspettate pochi istanti per l'avvio del fuoco. Appena la fiamma si ravviva, aggiungete dei ciocchi di medie dimensioni. Passato qualche minuto, spostate il fuoco da un lato per lasciare spazio alla cottura dei cibi. Il forno Ciao cuoce due pizze alla volta e circa due chili di pane. Con l'uso frequente del forno diventerete in breve tempo ottimi pizzaioli. Grazie a tutti. Il design dello sportello, grazie allo spioncino, vi aiuterà a controllare i cibi in cottura. E i due fori posti nella parte anteriore del Ciao serviranno a posizionare lo sportello a riposo. Alfa Pizza Il forno a legno è di casa Il forno a legno è di casa Il forno a legno è di casa Grazie a tutti.